Ma ti dicevo ma che cazzo sta dicendo Ammazzavi gli schietri, animali, tutto Cioè proprio così totalmente Totalmente a caso Completamente fuori di testa Ho detto ma cosa cazzo Allora io tecnicamente Qua adesso cosa dovevo fare Io ero con la missione principale Ho chiamato tutte le side quest da fare Ah no queste le ho fatte Ho queste, missione secondaria Missione secondaria Vabbè io devo fare questa Missione principale Per ora si Dobbiamo andare alla missione principale Poi le side quest Le farò per conto mio Allora io devo arrivare qua Allora qua mi teletrasporto Stavo impazzendo Non riuscivo a capire Non riuscivo completamente a capire Eh con la V era Ho capito però Ecco i guardiani della galassia I guardiani della galassia In realtà lo volevo prendere anch'io Che era sotto sconto Non lo so però Sono indeciso Lo vorrei Lo vorrei prendere Lo vorrei prendere Che era sotto sconto Com'è che si usava il rampino ora Non mi ricordo come si usava il rampino Non mi ricordo come si usava il rampino Io avevo i comandi Quelli intelligenti Ma non mi ricordo Vabbè io Stranger of Paradise Già l'ho cominciato da un bel po' Perché io avevo la La digital Quindi già giorno 15 Ci ho potuto giocare Sono già arrivato al Mi ricordo che sesto livello Vai Non mi ricordo a che livello sono Ma non lo so Perché comunque Ci sono un sacco di classi Però al tempo stesso È un casino Perché Perché comunque I cristalli sono 4 Io uno Già l'ho preso Io uno Già l'ho preso Come cristallo Non mi ricordo più neanche Come si combatte Comunque guardiani della galassia Guardiani della galassia Sì ci stavo pensando A prenderlo L'ho visto che era Che era in sconto E non costa neanche assai Adesso Per cui Sinceramente parlando Secondo me Secondo me Si potrebbe fare Secondo me Si potrebbe fare Tranquillamente Eh ma qua mi sa che Devo saltare Si devo saltare Prima la Merda Vabbè si effettivamente Diciamo il tempo Che tu lo finisci Io tecnicamente Mi dovrei finire Anche le altre robe Quindi si potrebbe fare Vabbè era più che altro Anche un discorso Perché così Poi io c'ho il mio Magari me lo voglio rigiocare Me lo voglio fare Però Vabbè si potrebbe fare Oh ma che cazzo è Niente mi sa che Non ci posso restare Com'è che si curava Non mi ricordo Come si curava Ma ecco così Ok Si si quello si Vabbè si Cosomai Cosomai appena lo finisci Me lo presti Vabbè Tails Ora comunque Lo riprendo pure Perché per ora L'avevo messo in pausa Per il discorso Per il discorso Che era uscito Elden Ring E volevo giocare Elden Ring Perché comunque poi Elden Ring Mi ha preso Mi ha preso Troppo E non sono riuscito A staccarmi Elden Ring Perché è veramente Troppo Troppo bello C'era poco da fare Troppo bello Quindi Ho voluto fare Elden Ring E mettere tutto il resto In pausa Ora invece Riprendo Piano piano Con i ritmi Con i ritmi giusti Ciao Lei a buonanotte Devo ricordare i tasti Non mi ricordo più i tasti Allora così si apriva il paracadute A questo me lo ricordavo Però non mi ricordo come si utilizzava Il rampino Questo vuole una side quest Vabbè Poi la faccio Ok Poi la facciamo Mi devo ricordare un attimo i tasti del Del coso Allora dove era Opzioni Era tipo comandi No Accessibilità Forse è qua Mira automatica Armi da mischia Comandi invertiti Parapendio Comandi esperti Lampino Ecco Ah ecco Premendo L1 Più R1 Ecco sì Ok Ok Era L1 Più R1 Allora Adesso dobbiamo ritornare Ok Da gozo Ok Ok. Eravamo rimasti dopo la missione, quella della torre. Eccolo. Questa è lauan, per esempio. Non lo sai dove sta? Non, ma lo che ho saputo è che qualcuno ha matato i giocatori di William, tutti con una sola ponte di ponte di crossbow. Si sembrava lauan di M.O., non? Ok, Pilgrim, ora si tratta di fare il negozio. È ancora in giro di Waltz, vedo. ...enough chichat Aiden Give me the key What? The GRE key Aiden Give it to me Awww I don't want to fight with you Hakon Pity I don't care what you want I saved your life at the bazaar Oh You saved my life I saved yours We're even whatever you might think we're not friends never were now give me the key you know I won't do that I get that fucking key from him McMahe qua dove ammazzare Akon mi sa eh Madonna il calcio, ho troppo poi Ma chi è che mi sta picchiando? Ah, là sopra! Ops! No, ma cosa ho fatto? Ho sbagliato! Minchia, ma ancora sono tutti qua! No, ho sbagliato! E' che mi stanno finendo le frecce! Mi devo ricraftare tutte le frecce! E quindi ora ammazzò lui! E quindi ora ammazzò lui! C'è un po' di me per la chiesa, Hakon! Ma così molte persone ha morto già! Ma non puoi rimanere il ruolo ora! Ma... ma tu avessi la possibilità di muovere me, per farlo da me in bazaar, cosa ha cambiato? Ma cosa pensi, chiede? Tu prometi di riuscire a me fuori della città. Abbiamo un accordo, ma poi tu mi ratti. E tu pensi che Waltz'è giusti te letto? Tu sai cosa ha fatto a Dylan. A... a tutti gli altri. Sì, ma loro stanno in modo. Dylan lo scusò. Lucas non daria la chiesa. Quindi? Quindi tu lo scusò? Non lo scusò. La chiesa è la scusò di fuori della città. Ah, un vero 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 che devo muovere te. Oh... Che cazzo è successo? Perché si sta trasformando? Ah, era scriptato. Ma ti stavo dicendo, ma che cazzo... Cazzo? Akon! Che cazzo! Che cazzo è capitato! Che cazzo è capitato! Chiacciamente sencilla è usato! No... Cazzo è capitato! è finito allora la sua voce era verso sopra io sentivo potrebbe essere da quel lato no non c'è rio devo salire da sopra mi sa a sotto invece ma indizi non ce ne sono tra l'altro a me piace in realtà in prima persona devo essere onesto specialmente per la tipologia di gioco che è basata sul parkour su tutte le acrobazie che devi fare che devi fare in volo quando mi devo andare là sopra ma il problema è come minchia ci arrivo là sopra ecco qua fatto no però qua non c'è nessuno ecco vedi lo sapevo che era qua anzi in live si vede un po' più chiaro rispetto a come lo vedo io io lo vedo molto più scuro ecco ecco Cosa? Come sai di questo? Poi rispettare la domanda. Ho fatto un negozio con il Dio. E lei aveva un negozio per fare. Cosa ti pari? Ho lasciato per proteggere. Se avessi, Walt avrebbe avuto la morte. Quindi perché hai lavorato con lui? Perché hai scoperto Frank? Non ho fatto! Cosa cazzo dovevi aggiustare? Dopo la stazione tv, ho pensato di spiegare su Waltz. Ma è stato sospicioso. Ha cercato di uccidere una persona. E ora è troppo tardi. Ma non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ah mica l'ho ucciso Fred... è Aiden. Hakon è morto. O farlo... non lo so. Non lo so. Non lo so. Oh, mica l'ho ucciso. L'ho appiccicato, l'ho appiccicato alla parete proprio L'ho appiccicato alla chiamata, Aiden Stop, Hakon, tu non sei in condizione per l'arrivo Ehm, l'ho appiccato alla fine, non? Hakon, parlare con me, questo non fa sensazione Doi i Night Runners non significano nulla a te? Non ti voglio fare le cose giusto, Hakon? Non ci voglio fare le cose giusto Non ci voglio fare le cose giusto No matter what Frank says, he ain't gonna raise the dead Although, it's a nice dream What's really going on here? Frank told me how you broke with the Night Runners Every day since, I've wondered Would things have ended differently if I'd been there? Would my friends be alive? I know I can't bring anyone back But I did make a vow I'd prove myself to Frank and Lawan I don't want to fight you anymore, Hakon Neither do I, kid Neither do I I mean, I'm so tired So fucking tired It's quite a trip, huh? Who's worried that I'd have to learn surfing on my own? Thanks for softening him up for me Ah, it's my ray of sunshine With a lethal crossbow Shut the fuck up Good thing you didn't finish me off, Aiden Or she would have been pissed Who won? How did you f- Have my own connections Try to stop me And we're no longer friends, Aiden Ah, perché mi dovete fare fare ste scelte? Ah, perché mi dovete fare fare ste scelte? Luan He said he wanted to protect you What is he talking about, asshole? He said he joined Waltz Because he wanted to spy on him Aiden, shut up But he had to stop Because Waltz threatened to hurt you Bullshit I know Stop bullshitting me Luan This is bullshit Get the fuck out of here You sure? Go before I change my mind, you asshole I'm sorry How do you feel? I don't know I feel relieved Some peace Finally, but But I should have killed him He was on my list He's still on my list Then throw your list away That list is my only purpose It'll help me keep going Throw it away, Luan You think you know me? Fuck you Luan Wait Almeno li ho salvati Almeno Sono sicuro che queste scelte mi ricompenseranno in futuro Frank? Where you been, kid? Waiting for you at the fisheye Get over here Yeah Look, a lot went down since we last spoke Fuck What happened? You okay? Yeah, I'm fine And You won't believe this But Luan was there And She let Hakon go She won Yeah She destroyed her kill list I'm floored Save your shock for later, Frank What about that doctor? Come to the fisheye, Aiden I'll tell you everything Allora, andiamo al fisheye Il fisheye io ci posso andare tramite teleport Quindi Easy 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 Smartphone To be continued To be continued Ah, vediamo cosa mi deve dire Frank a sto punto Aiden, sei qui? Perciò al bar Aiden? Chi è Aiden? Frank? forse la one forse la one d'ekon sono tornati indietro mega plot twist dlc gratis di cosa dlc gratis ma cosa di oggi hey tutti voglio dire qualcosa hey tutti hey hey shut up tutti frank ha qualcosa di dire per qualsiasi che resta in me io faccio la una officiellamente e sempre una 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 fuck yes come on get the fuck out get in the beer frank you mean so you're really bringing back the night runners no you're bringing them back you and aiden in fact you've already started these old bastards are all former night runners who heard my broadcasts and came back but you you did them want better you grew up fuck you ma non lo so forse c'è anche sul pc credo in realtà non lo so però boh vabbè tanto io lo prenderò su ps5 comunque oh what about you frank do you forgive oh Aaron no 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 Noi non posso perdere, non ho capito. Non ho capito. Non è un ringo d'endorsi, ma io prendo quello che posso ottenere. Bene. Ora, questo è Luann's time, non il vostro. Step back and shut up. Tutti tutti... ...supi i piedi. Molto un piatto per una ceremona che un bar. Oh, sì! Quindi Akon è tornato, minchia, l'ho detto che questa scelta mi avrebbe fatto bene. Per servire una cosa più grande di me. Oggi sono forzata un nuovo. Per servire una cosa più grande di me. Io sarò la scuola che slaggia gli enemy di Mankind. Io sarò la scuola che slaggia gli enemy di Mankind. Io sarò la scuola dietro la quale la umanità riuscita di nuovo. Io sarò la scuola dietro la quale la umanità riuscita di nuovo. Io sarò la luce nella scuola. Sono la ducera in la scuola di Muntre. Questo è un progetto motivo. Questo è un progetto mio loggio. Questo è un progetto mio loggio. Come unaannya riuscita di Nite Runner. Come una divergenza. Hoato ausono la giro! Ti dovrò pensarlo. Tu già hai e iso lo chico per parare. . Quello che gli sovravo congratulare Beh, sì, ovvio Allora, mi ringrazio Esa è un signo pilgrim Non non ci bisogna più worry Voi, ovviamente, un riletto E si sente? È davvero strana Per tanto tempo, era solo un franc E le riletto erano solo una storia di lui E ora, siamo come una stagione insta-familia e anche Hakon, per fuck's sake, potete credere? beh, avere Hakon back must be weird tell me about it spend so much time wanting to kill him but maybe, you know maybe I never did because I never really wanted to maybe all I ever wanted was to stop hurting well, um are you hurting now? not really itchy, maybe like when an infection's healing but I'm not in pain for the first time and I don't know how long Luan, I... I was worried here it comes when you left after after your place Hakon's in my place yeah, I can say that now if I can say that then it proves that you don't have to worry about me of course I do, especially now I mean, take it from a pilgrim happy people are vulnerable people aren't you a buzzkill no, it's just that after everything I just I just don't want to see you hurt again next time I get hurt I ain't gonna piss around so long before I kill the fucker yeah, I guess I better quit while I'm ahead look I'm sorry I bailed on you I was just it's okay it it was really none of my business but I made it your business when I took you there maybe I did it on purpose on purpose you've made me and Frank all this your business and look how much all of us have gained maybe I I wanted you to know but I was too chicken shit to come out and tell you so so we went shoe shopping right those fucking shoes they look good on you okay I've I gotta go to look for your sister, right? sometimes I envy her envy her? hell that she means so much to someone I'm sorry fuck I'm talking bullshit ciao ciao Jack si ma tanto pure io ancora vado al letto tra un po' no no you're not just shut up thank you Frank's got something for you Aiden yeesh no one they're waiting for you downstairs I'm coming Hakon fuck you go do your thing Aiden and good luck right now I think I just gotta do my thing the more things change the more they stay the same make it Frank found that doctor you were looking for Veronica Ryan seems she used to work for the GRE and I thought I knew everything about the women in this city you can probably find her somewhere around the church qualche parte nei dintorni della chiesa I have more to tell you Luan what what Sono tutte missioni secondarie E' la missione principale Vabbè forse ora mi si sblocca E' infatti qua Trovo Veronica Ok No le side quest le faccio poi Vediamo se è lontano Ah minchia Eh Per trasporto easy Che poi questa era la base Era la vecchia base Il bazar E' lontano E' lontano You and the peacekeepers. Your friends. They attacked the bazaar. Most of us died trying to protect it. I told you. Told you they were murderers. All their empty claims of wanting peace. And look. Look what they've done to the bazaar. My home. Does this look like peace, Aiden? So many years of work. So many years of fighting. Why did you even come here? I'm looking for Dr. Veronica Ryan. Well, then you're a lucky son of a bitch. She survived. Where is she now? Why would I tell you? Sophie, I didn't start this war. I was trying to warn you. You know what? Okay. That bitch, Ryan, used to help the P.K. Said they're people just like us, and they're not. Whatever you want from her will probably get her killed anyway, knowing you. Which is good. I wish that for her. And as far as I know, there are also some renegades trying to take her out. And as far as I heard, she was hiding in a building north of Quarry End. Courtesan Rove Street. Thank you. Get out of my sight. You miserable wretch. I'm sorry, mother. So much work. So much futile work. Un po' incazzata forse. Leggermente. Just a pizzico. Minchia. La sotto se n'è andata? Yeah. Yeah. Okay. 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oddio ci sono entrati in casa E quindi l'hanno ammazzata? Non credo Dove no talk Understand? I'll make you talk 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 Oops I need to find her Do you know where she is now? No No But we can try to contact her Veronica Veronica Are you safe? Veronica Shit Something's not right? Something's not right I'm safe Are you? Oh I am now There is someone who needs to speak to you Yeah Dr. Ryan I'm Aiden I know that you're being hunted I know that you're being hunted by the renegades Hurry Aiden More renegades may be here any minute Frank told me you work for the GRE I need access to the GRE database in the observatory I have a GRE key A GRE access key? That's what I've been told You think you can Let's meet I'll be in a small building near the dam Not far from the observatory Okay I'll go Hello? Be careful Aiden The place is soaked in chemicals I will Thanks for the heads up Vincenzo Well It seems that despite everything You saved my life Farewell Aiden Farewell Allora dobbiamo raggiungere Veronica adesso Ah minchia guarda dove si trova Allora questo è l'osservatorio E' questo l'osservatorio Io non posso neanche teletrasportarmi Ok Ora lo posso usare il teletrasporto penso Ok Va bene E allora Casomai quest'altra parte poi la facciamo la prossima volta E' inutile che tanto Che mi forzo così inutilmente Va bene A questo punto stacco E E ci becchiamo poi domani con calma Bye bye Ciao